Matteo Salvini, perché avete fatto questo flash mob? Perché si tratta di uno spreco di Stato, un affronto agli artigiani e commercianti che oggi erano a Roma a protestare, ai cassi integrate, agli esodati, agli artisti seri che 600 mila euro li guadagnano nell'arco di una vita. Quindi che gli italiani con il loro canone ingrassino il colto in banca di questi comunisti radical chic che vanno a farci la morare in cinque giorni, guadagnano quanto un operaio guadagna in tre vite, è veramente una vergogna. Ci sono stipendi eccessivi, soprattutto nei budget troppo alti, mi lamentate, tipo la Letizietto? È un distaccamento del Festival dell'Unità molto ben pagato, è una kermesse del Partito Democratico pagata dai cittadini italiani ed è una vergogna. A questo proposito Radio Padania farà una contromanifestazione, possiamo dire, sugli loro canali? A noi piace la musica locale, la musica del territorio, la musica pagata è il giusto, non la musica strapagata, gli ospiti strapagati e soprattutto chi fa politica con i soldi del canone sono orgogliosi di rappresentare un movimento che da solo e da sempre chiede e vota per l'abolizione del canone Rai. Tutti gli altri, da destra a sinistra, hanno sulla coscienza il canone che è una schifezza a livello planetario.